Cinquantessima sagra del vino di Carosino, una manifestazione, una serata davvero splendida con il momento clou appunto della fontana che zampilla. Sindaco, una tradizione che si rinnova di anno in anno ma che si rivive con rinnovato entusiasmo. E con la stessa emozione perché con la stessa emozione ogni anno noi viviamo l'accensione di questa bellissima fontana che zampilla vino primitivo. E un pochettino di quel vino primitivo l'abbiamo ingabbiato in questo carlice e lo stiamo sorseggiando. Idealmente con tutti quelli che amano il nostro territorio, che amano la nostra cultura, tradizione, che amano il nostro vino, che amano la nostra gastronomia. La nostra intenzione, il nostro desiderio è di estendere questo augurio, l'augurio di conoscere il nostro territorio a tutti i nostri concittadini nazionali ed europei che vorranno venire a trovarci. Abbiamo tante cose da mostrare, abbiamo tante emozioni da presentarvi e da farvi condividere con le nostre. Sindaco, una sagra, quella di quest'anno, che ha voluto dare spazio anche ai convegni, a due convegni, proprio per approfondire le problematiche del settore vitivinicolo. Del settore vitivinicolo, sì, con dei importantissimi rappresentanti del settore, Conf Agricoltura a livello nazionale, Conf Coop, poi alcuni rappresentanti di cooperative fortemente attive, fiorenti, della nostra zona. Abbiamo voluto fare il punto del nostro stato, della qualità e della vitalità del nostro territorio in un'annata che si preannuncia già da adesso importantissima, favorevole, eccezionale. Anche se le piogge di questi giorni sembravano potessero guastare un pochettino il prodotto, non è successo, non è successo niente perché il primitivo, per fortuna, è stato quasi completamente raccolto, ha aiutato le coltivazioni che non sono di primitivo. E quindi abbiamo un'annata eccezionale. Il 2016 sarà sicuramente un'annata importante, però è importante per noi perché non solo stiamo vivendo questa grande avventura di promuovere il nostro territorio e la fontana che Zampilla vino, ma stiamo vivendo la grande avventura di far conoscere e di rivitalizzare questo territorio che per troppi anni è stato mortificato fisicamente e anche moralmente. Sindaco, un brindisi a Carosino, alla Sagra, alla Cinquantesima Sagra e a questa gente che veramente ama il territorio e fa di tutto per farlo risplendere. Cin cin.